E iniziamo proprio subito con la nostra sezione prove per raccontarvi un'automobile davvero straordinaria. Spesso vi abbiamo presentato i bolidi confezionati dal preparatore del marchio Mercedes-Benz, ma a questa volta ingegneri e tecnici si sono davvero superati. Vediamo insieme le immagini della nuova E63 AMG. Provate ad immaginare un atleta olimpionico, il suo fisico snello, agile e potente. Fategli indossare un vestito di alta sartoria. Ecco, avrete un'idea di ciò che quei maghi della AMG, il reparto high performance Mercedes-Benz, hanno saputo realizzare mettendo mano ad una vettura già straordinaria come la classe E. Il risultato è la E63 AMG, giudicata da quelli che l'hanno confezionata la migliore AMG di tutti i tempi. Che i papà siano di parte nei confronti dell'ultima arrivata è comprensibile, ma è anche vero che al suo cospetto ci si trova dinnanzi a un gioiello di tecnica automobilistica vestita da un'eleganza fuori dall'ordinario. Il suo cuore è uno spaventoso V8 di 6,3 litri, ben 526 cavalli che trovano nel cambio sportivo a sette marce Speed Shift il formidabile alleato per sprigionare le loro enormi potenzialità. Quattro, i programmi di marcia per personalizzare al meglio la guida, sempre emozionante e dinamica anche grazie alle funzioni di doppietta e race start. Le prestazioni sono da urlo, 4 secondi e mezzo per passare da 0 a 100 km orari e una velocità massima limitata elettronicamente a 250. L'architettura che si erge attorno al puro sangue parla di un bolide nato per correre. L'assetto sportivo e il nuovo Servo Sterzo assicurano una guida agile e divertente in pista ed il miglior comfort sull'asfalto di ogni giorno. Il tutto a fronte di una sicurezza di marcia assoluta con le SP a tre stadi. In Italia la E63 AMG è già disponibile, il prezzo è stato fissato in 111.000 euro.